un'ora di sì e no per così poco bel colpo la c'è il silvia show il silvia show ma è l'altra gamba per alzare dai ho fatto 4 milioni di alzate perché diago braccio piegato alta Melinda non avrai sempre un amare che difende male brava Arianna bello questo è bello grazie Arianna brava Arianna brava Arianna brava Arianna culo a punta Teo devi entrare sotto nella recezione non andarci a pecora per poi dare il colpo di Reni grazie vedete le alzate lo schermo si chiamava un po' l'appoggio certo certo brava Chiara un po' meno brava Chiara un po' meno brava Chiara brava è un po' meno brava ma che ti metti che vai il primo tempo con pallo a filorete non è un alzatore che è lì preparato da un'ora ci sta arrivando in corsa ci sta arrivando in corsa ci sta arrivando in corsa poveraccia chiamano uno schema diverso chiamagli tre a quel punto tanto la base deve mettere in testa e da un po' più alta uno cazzo di tutte le cose che ora sono alzate il tenore di arcare la schiena in alzata di la stacchi che ore sono Albi ultimo pallone bello bello scambio bello scambio bello scambio bello scambio cuidiamo bello scambio bello stile bello scambio i